Oggi ragazzi giochiamo al nascondino con i miei amici Dove trovarci, siamo già nascosti noi Infatti siete stati molto bravi a nascondervi da prima, infatti adesso vi cercherò e vi troverò Sono in un posto un po' illegale sinceramente No, come? Sei illegale però non va bene, comunque Chiara, io ti dico solo una cosa, stavo sentendo leggermente l'audio di ritorno Quindi sistema immediatamente questa cosa perché se no Eh ma, va bene Doonis dovrà intraprendere il viaggio scuro dell'arte malvagia per punire la tua chiappetta No scherzo, c'è nel senso Cosa? No povera me, scusami Povera chiappetta No, non è povera affatto, soprattutto perché tu stai infrangendo una dei bei video di Doonis Una delle regole Ah dai Sì, fai l'audio di ritorno e quindi fa schifo, ma poi perché adesso fai l'audio di ritorno? Adesso Chiara ci spiega Non lo so, ma io ti tengo tipo bassissimo, no? Ah vabbè, tranquilla tanto, io urlo come se non ci fosse un domano Vabbè, allora, adesso ti troverò e ti c'è Allora, però io in realtà sto cercando, ma non sto trovando nessuno ancora Eh, vedi, ci siamo nascosti benissimo Eh sì Siamo nella casa di Angelo e Chiara, ragazzi, come ben potete vedere, molto bella E comunque, se posso dire, questo mondo è veramente bellissimo Modestamente Esattamente Sì, esatto Siamo molto soddisfatti di questo mondo, anche perché non c'è una mia casa Eh, da anni che hai da costruire Eh sì, ma perché sapete, io ho sempre poco tempo, poi quando, cioè quando avrei tempo Di mangiare le mele Sì Di andare a passeggiare Esatto Eh, sì, un po' di cose devo fare, io comunque non è che sono molto propenso ad afferrare il Minecraft E dire, ah, adesso ti afferro e ti gioco Non so cosa ho detto, ragazzi Ma cosa vuol dire? Vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore se vi siete sentiti toccati da questa cosa Non è che avete, allora, prima cosa, è assolutamente vietato 100% usare il Disguise No, 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 non lo stiamo usando No, non ci chiamiamo Dennis Eh, come ti permetti, come ti... Noi siamo puliti Ragazzi, avete sentito cosa ha detto Chiara? Allora, noi non ci possiamo permettere di essere così presi in giro Quindi dobbiamo tutti scrivere nei commenti Chiara, puzzona, forza È vero, è giusto, no? Scriviamolo, perché se no io sono completamente offeso Cioè, Chiara non deve permettersi di offendere Dunice in questo modo Vedete ancora? Ora è un altro motivo per continuare a scrivere Chiara puzzona Perché veramente Non è vero, puzzi di catrame, per non dire qualcos'altro Eh, povera Eh, guarda, no, non voglio perché se no poi dopo YouTube dice Ah, Dunice, fai schifo Vento volgare poi Allora, no, aspetta, non l'ho capito bene Che è che diventa volgare? Tu? No, la cosa che dico In che senso vorresti diventare volgare, Chiara? No, 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 la cosa che dico potrebbe sembrare molto volgare Che poi magari sale sopra ad un cavallo Cavallo e ruba la carota di Angelo Eh, ragazzi, avete visto? Avete visto? Sì, infatti, me la sono magnata Com'è stata quella carota, Chiara? Beh, diciamo Dove essere meglio Ah, oh mio Dio Ci ha appena rivelato una cosa veramente pazzurda, ragazzi Ci ha appena rivelato uno scoop assurdo Che dovremmo tutti quanti scrivere Nella storia di Tito Livio Sì, che Angelo ha le carote fabute Sì Cioè, false Sì, false, fatto Chiara Sennò poi dopo qua non si capisce niente Mi scuso Eh Sì, si scusi con i nostri telespettatori qua presenti da casa Telespettatori Benvenuti in questa puntata di Nascondino su Minecraft Dove Denis si impazzisce perché non ci trova Esatto, ma infatti io adesso tranquilli Che proprio non ci metto due niente a tifarmi No, 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 vale Primo, sì, esatto Primo, ultimo indice Eh? Vabbè, primo indice Vai, andate Ditemi una cosa a testa Prima Chiara, vai Dimmi Allora, io sono dentro Dentro Sono all'interno No, ancora più Perché se no E non va bene Cioè, se no non ti trovo mai più Sono in una stanza che hai già visitato Di una casa che hai già visitato Quindi la tua Eh, può darsi Scusa, puoi rispondere Entro domani mattina Mannaggia te ti sei scordata Allora, ho capito che tu Sei stata via per tanto tempo Dovete sapere che lei è stata all'Artico Per una spedizione, chiaramente Le è stato detto Sulle montagne Sì E quindi però questa cosa non va bene Perché Chiara si è dimenticato tutto Perché non ho una memoria Chiara No, no, ma io Sì, è la mia connessione oggi No No, secondo me è anche un po' il tuo cervello Guarda Un po' spesso No, fiedi Il mio cervello è ben concentrato a parlare Fiedi di me Eh, tipo adesso per esempio Io sì, è concentrato Prima non lo era molto Perché mi hai risposto mezz'ora dopo Quindi Vabbè, ma io al giorno mica penso alle papere e le galline Quindi Questa cosa non l'ho capita Comunque vabbè Gabri, il tuo indizio Eh, dimmi, dimmi Dimmi, vai, il tuo indizio No, è che ti devo dire Non ci sei mai stato in questo posto qui Oh mio Dio Dimmi, dimmi un tuo indizio Gabri per davvero Eh, è più o meno dentro Eh, sia dentro che fuori Ho capito Aspetta un attimo Ok, adesso devo risolvere una cosa Io No, non vale, non vale, non vale Ah, non vale Ciao Gabri No, non vale Come va? Ti ho trovato Forza, su, su, su Che schifo Adesso dovrete trovare me Povero ragazzi Ragazzi Scusa, scusa Ti sembrava legale questo posto Eh, ma poi come caspita Ti sei infilata qua dentro Ci hai rotto tutto Non lo so neanch'io No, devo vedere Voglio vedere No, non devi vedere Perché tu devi starla fuori Perché adesso ci dobbiamo tippare da te Perché sennò poi dopo Ci mettiamo mezz'ora Ah, va bene, va bene Va bene Mi tippo anch'io allora Oh mio Dio Appena Schifoso Ti devo consegnare a nonna Gelsomina Per caso No, no, no La nonna Gelsomina È lì dentro in casa Esatto Ti sta curando la casa La sta tenendo d'occhio Perché? Ci sono strani sassi Adesso comunque Si sono stranianto Comunque adesso Chi è che vuole cercare Fra voi due? Domanda Gabri Ok, perfetto Vai, cerca tu Gabri Mettiti Va bene Vado sotto terra Esatto Non guardare Chiara Andiamo insieme Perché dobbiamo essere più Scaltri che mai Chiara Dobbiamo nasconderci Dobbiamo insinuarci bene Insinuarci nei posti più Dobbiamo entrare nei posti Più Sì, certo Esatto Proprio così Chiara Nascosti Esatto Nei posti più nascosti È vero che io stavo ridendo Senza Cioè Proprio era una risata isterica Perché mi stavo Rendendo conto Mi stavo rendendo conto Che stavo dicendo Una cosa che non si poteva dire Però Vabbè Facciamo avviteri niente Esatto Esatto Qua Qua non ci trovo Dove dici? No, no, no Non dovete stare in posti illegali Qua siamo dietro di una casa No Ho detto tutto Ho detto tutto Dietro di una casa Ah, sei zitto Tu non puoi trovarti Sì, Dennis Così non ci troverà mai Ma non è Ma si vede il tuo nome Comunque, Chiara Come si vede? Si vede? Si vede Non ho visto niente Non proprio Però E che siamo alle stelle No, però Aspetta Ok, vabbè 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 Ho capito Ho capito Ok, vai Così Aspetta un attimo Gabri Aspetta un attimo Va bene Adesso Duny Si deve interrufolare Perché ha un problema Perché se non Allora Se non si intrufola bene Duny Probabilmente può rischiare di Morire male Perché praticamente qua ci sono anche Come Dei zombie Dei creeper Eccetera Quindi è E infatti Chiara, forza Copia il mio post Cioè vieni qua da me Dove sono io Hai capito? Vieni, forza Muovi il sederino Il sederone Non so cosa tu abbia Penso più un sederone Perché da quanto Io sappia Esatto Da quanto io sappia No, nel senso Mannaggia a te Che devo fare tutto io Però eh Cioè proprio tutto Perché Ma non riesco No, sei tu che Ragazzi Per favore Perché mi devo avere Cioè non riuscivo ad entrare Nel posto Nel buco prefissato ragazzi Ok, perfetto Chiara Sì, sì Vedi che hai Ah, però Sto dove siete Ah, giusto Giusto Hai proprio ragione Chiara Adesso siamo proprio Identici E te Cioè proprio Allo stesso punto siamo Ok, perfetto Esattamente Esatto vedo Ti vedo comunque Sì, comunque Se tu hai bisogno di Ti parti Puoi farlo pure chiaramente Perché non è un problema Ma intanto noi adesso Stiamo qua nascosti Per vedere se Gabriele ci trova Posso cercare Sì, Gabriele Magari Ah, va bene Sì, però Sì, però Adesso veloce però Mi raccomando, Gabriele Mi raccomando Sì, sì, vi devo trovare Vi trovo, vi trovo Assolutamente Sicuro vi troverò Certo, certo Come no Trovaci perché Se no Dunice Si arrabbia Perché poi dopo Chiaramente devi Devi trovarci, no? Sennò cosa fa Dunice? Sì, mi ho nascosti troppo bene Comunque Sì, esatto Non ci troverai Mai Mai Sicuri Sicuro al 100% Sicuro come Ne dubito Ne dubito Vabbè se Di solito trovo Di solito Eh beh, di solito Però questa cosa Non è detto che sia vera A parte che tu non potresti Affatto utilizzare Una cosa chiamata TP Cioè io posso No, no, no Ma io non lo uso Non lo uso Non lo uso Non ho bisogno Ok, allora Vabbè Forse potrai trovarci Potrai avere la speranza Di trovarci In modo lecito Può darsi E come non può darsi Esatto Capisco Capisco Senza bisogno di morire Ecco, esatto Come senza bisogno di morire Eh, perché se usa il TP Io lo uccido No, no, no Ma non lo uso Non lo uso Ah, non lo uso E beh, meno male No, perché sai com'è Avrei voluto proprio uccidere Anzi, lo puoi usare Così ti uccido No, no Non voglio morire Voglio vivere Vabbè, in effetti Non sei da abiasimare In effetti Però So, magari Vedi, vedi Muovi un po' il sederone Non ci troverai mai Eh, esatto, esatto Chiara Intrufolati meglio Da questa parte Perché è molto importante Che tu riesci Certo, ci siamo capiti Io e te Io e te siamo proprio come delle Non lo so Delle persone che si capiscono Non mi sto trovando Che schifo Ma com'è che non ci stai Allora, Gabri Com'è che non ci stai trovando No, non mi sto trovando E che veramente Ah, ho capito Infatti Ma guarda Tu ci devi cercare bene Perché allora Ti diamo un indizio Noi siamo Praticamente Ho visto delle strane particelle Non so come mai Come? In che senso? Eh, non so Delle particelle strane Vabbè, boh Forse sarà qualcosa Boh Non lo so Comunque, Gabri Cioè, io ti consiglio Di andare proprio Allora Ti consiglio di cercarci Però forse Va bene, va bene Ti do un indizio Se vuoi Dimmi, dimmi Allora, l'indizio sarebbe quello Di andare ad un posto Molto specifico Che sarebbe Cioè, specifico Tra virgolette Cioè, nel senso Verso il tunnel Del mio Ah, del tuo passaggio segreto? No, del mio amico nonno Quindi Ah, sì, sì, sì Ma c'è una spada Ho visto una spada In che senso hai visto una spada? Sì, ho visto una spada Ma sì, ma secondo me Guarda che di nuovo Il DJ che ti comanda, Gabrie Cioè, per favore No, ma come? È il Dio Lama È il Dio Lama, non lo so È il Dio Lama, mi sa Sì, esatto No, no, no Non credo, non credo Non credi? Vabbè, comunque Perché lui non ti faceva mai vedere la spada Dici, è incredibile questa cosa No, poverino, Gabrie C'è ti mostro male Eh, beh Perché non gli faccio vedere la spada Ci può essere Può darsi, può darsi Vabbè, dai, Gabrie Ormai abbiamo capito che tu hai capito Quindi non far finta Dai Che schifo Effect Clear Che vuoi Esatto È stato bello, ragazzi, registrare questo video dopo tanto Ovviamente noi stiamo registrando molti shorts Perché chiaramente siamo Sono divertenti Sono divertenti E poi fanno anche molti più views Giusto È per essere trasparenti È giusto per essere trasparenti, no? Cioè, nel senso Scusate Ma se una cosa va detta Eh, va detta, va detta Esatto Quindi Per ora però Continueremo a registrare molti più shorts Però Ovviamente questi video Qualche volta alla settimana Usciranno tranquilli Che usciranno sempre i video lunghi Quindi non vi dovete preoccupare E noi Ragazzi Per i veterani Ci vediamo Esatto Per i veterani Vabbè E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao